Entusiasmo, curiosità, affiatamento. Per Marta Bassino, campionessa di sci alpino, l'incontro col premio Chiare è finito in trionfo, complice la parola d'ordine del suo approccio, passione. La stessa che condivide con l'anima del festival, Bambi Lazzati, che per Rete55 ha vestito i panni dell'intervistatrice, rivolgendosi in particolare ai più giovani. Non ti era mai capitato un invito in un premio letterario per parlare non soltanto di sport, di sci, ma essere dentro coinvolta nella cultura. No, devo dire che la prima volta, infatti io sono molto contenta di essere qui e di parlare comunque di sport, perché io rappresento quello e da sportiva, appunto, amante dello sport, sono contenta di poterne parlare anche con gente che magari non segue tutti i giorni lo sport, come lo seguiamo noi. Noi abbiamo fatto, soprattutto è un'idea che è venuta fuori, diciamo a me, poi è venuta fuori a Valentino, però legata soprattutto ai giovani, perché i giovani dicono voglio diventare campione. Io quando sono grande sono un campione, ma non è soltanto nello sport, puoi essere un campione anche in altre realtà, però bisogna sapere cosa c'è dietro per essere campione. La ricerca della felicità è un impasto di determinazione, sacrificio, talento e, perché no, libertà. Quella che ci chiede di assecondare ciò che ci fa star bene, indipendentemente dal fatto che sia di moda oppure no. Bisogna prima di tutto avere delle idee ben chiare e secondo me bisogna capire, dentro ognuno di noi dobbiamo capire quello per cui siamo bravi a fare. E quindi continuare con questa storia, su questa strada, volerlo tanto e da lì poi è chiaro che parte la determinazione, l'allenamento, il fatto di appunto allenarsi tutti i giorni, nel mio caso come in qualsiasi altro lavoro o in qualsiasi altro ambito.